e che quindi dovrebbe essere proprio al centro della nostra attenzione un confronto particolarmente importante che si tiene, fatemelo dire, non a caso a Napoli in una definizione di nuove strategie, nuove prospettive che ci possono accompagnare in una crescita l'economia al nord invece l'abbiamo portata all'estremità l'uomo che può e deve svolgere oggi più che mai il nostro mezzogiorno andiamo avanti con queste passioni, grazie e ci vediamo una domanda